Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come ti ho detto dal titolo sarà il video riguardante una nuova linea che ho trovato proprio adesso che sono uscita da Lidl in realtà avevo già visto a questi prodotti un pochettino su Instagram e su Facebook e quindi ho approfittato per acquistarne qualcuno soprattutto perché alcuni di questi come vedrete tra pochissimo hanno un inci ottimo si chiama Sensual by Sien ed è composta da due body cream, due hand balm, due body spray, due shower oil e shower foam e due oil balm sono quindi per lo anzi esclusivamente prodotti per il corpo la linea si divide poi in due fragranze, ASEAN Sprint tutta composta da confezioni bianche o trasparenti e la fragranza oriental beauty composta da tutti i prodotti con il packaging rosso abbiamo come vi ho detto due body cream, Sherry Blossom e Almond Oil della linea ASEAN Sprint Delight Your Sands, un barattolone da 200 ml di crema corpo che ha un paio di 12 mesi come potete vedere vi lascio la foto qui, non ho acquistato questo prodotto in quanto fra tutti sembra uno di quelli che ha inci un pochettino peggiore quindi ho deciso di bypassare preferendo comunque prodotti con inci ancora più buono non contiene dimeticone, paraffina eccetera ed è già tantissimo però comunque se dovessi consigliarvela, si lo so sono un po' severa, no preferisco magari consigliarvi prodotti di cui vi parlerò fra pochissimo con inci ancora migliore sempre body cream con la confezione rossa c'è quello all'olio di sesamo e burro di karité quindi della linea oriental beauty anche questo ragazze più o meno contiene gli stessi ingredienti del body cream ASEAN Sprint non ha proprio un buon inci, vi ripeto non è proprio malissimo però ragazze vedrete tra poco che ci sono prodotti con inci migliore e proprio un prodotto con inci ottimo di questa linea è l'end balm quello col packaging bianco naturalmente della linea ASEAN Spirit è sempre a base di cherry blossom e almond oil questo prodotto ragazze io sono sincera ha inci ottimo contiene glicerina, olio di mandorle dolci non è un prodotto troppo sintetico contiene 70 ml a un pao di 12 mesi e ragazze sinceramente si se dovessi consigliarvelo vi invito a provare questa crema perché comunque ha ingredienti davvero fatti bene e proprio per questo ho deciso di acquistare questa crema qui ossia la hand balm sesam hoy della linea oriental beauty col packaging rosso la sto aprendo con voi la prima volta ha un profumo speziato davvero buonissimo si assorbe abbastanza facilmente sto notando che un pochettino unge però non è assolutamente niente male poi ragazzi la profumazione così speziata di cannella mi piace tantissimo contiene 70 ml di prodotto a un pao di 12 mesi come prima impressione come ingredienti secondo me sono ottime proseguiamo con due acque profumate spray abbiamo la body spray cherry blossom è sempre della linea asian spirit che è praticamente questa acqua profumata qui che dovrebbe venire 2 euro e 50 2 euro e 90 massimo devo dirvi che non ha proprio un inci perfetto però ragazzi io l'ho presa in quanto è a base soprattutto di alcol denaturato glicerina e appunto profumo poi come sapete queste acque profumate sien o comunque di qualunque altro brand le spruzzo sempre non tanto sulla pelle quanto sui vestiti proviamo adesso questo profumo per la prima volta mamma mia ragazzi ha un odore eccezionale profumo fresco delicato buonissimo buono 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 e ho deciso alla fine di acquistare solamente questa acqua profumata e non quella appunto della linea oriental beauty di cui vi lascio ora la foto qui perché comunque è quella che più mi ha colpito e soprattutto ho visto che nell'espositore ce n'erano davvero pochissime mi sono fidata un po' della massa fatemi sapere magari anche voi se avete provato anche la oriental beauty e se vi piace insomma è come vi siete trovate proseguiamo con lo shower foam ossia una schiuma per lavare il corpo e questa ragazzi sinceramente non l'ho acquistata perché fra tutti è uno dei prodotti con inci un pochettino peggiore in quanto contiene sodium laureate sulfate in seconda posizione ragazzi capisco che è un prodotto per il corpo a risciacquo però ho preferito insomma prendere i prodotti con inci migliori e lasciare nell'espositore ciò che poi magari avrei utilizzato un pochettino meno la confezione comunque è quella spray classica e contiene 200 ml di prodotto la stessa cosa identica c'è anche della linea oriental beauty la riconoscete perché ha il packaging rosso sempre in schiuma e anche qui stessa cosa contiene sodium laureate sulfate quindi alla fine non l'ho acquistata l'altro prodotto ossia lo shower oil della linea asian spirit non ha proprio un buon inci in quanto anche questo è molto molto sintetico e neanche quello della linea oriental beauty ho fatto lo stesso ragionamento comunque della schiuma lavante per il corpo ho preferito non prenderla affidandomi più a altri prodotti con inci migliore e per questo ho deciso di prendere l'oil balm l'oil balm come sempre è disponibile per entrambe le fragranze ossia asian spirit con solita confezione bianca contiene 250 ml di prodotto è un pao di 12 mesi anche questa ragazze devo dirvi che ha un inci fatto molto molto bene mi piace tantissimo adesso sentiamo un attimo la profumazione si è molto simile anche alla profumazione di questo body spray devo dirvi che mi ha spinto ad acquistare questo prodotto oltre che gli ingredienti ottimi anche questa confezione è molto igienica e molto comoda perché ha questo dispenser contiene 250 ml e ha un pao di 12 mesi voglio vedere un attimo all'interno com'è no è proprio una crema bianca lo stesso oil balm lo potete trovare è anche questa un inci ottimo della linea rossa quindi oriental beauty che sicuramente avrà la stessa fragranza della crema mani di cui vi ho parlato prima mi raccomando ragazze fatemi sapere come sempre nei commenti se anche voi avete provato questi prodotti se li avete acquistati se vi siete trovati bene o meno vi mando come sempre un bacio grande vi ricordo che non è una linea sienne in edizione permanente cioè che trovate tra tutti i prodotti sienne ma è una limited edition ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video ciao